Buongiorno amici, questo è l'abito realizzato da Beji, ma sì, Narinei, che vi avevamo già presentato il 3 maggio, un abito ispirato all'India, alle spezie di questo paese, in particolare utilizzando polvere d'oro che evoca i colori dello zafferano. Sono stati usati pasta, peperoncino, filo di ferro per dare struttura alle linee dell'abito e pizzo ricamato per renderlo maggiormente elegante. Se volete votarlo scrivete a 45 sul coupon che trovate sul settimanale Oggi, in palio ci sono 4 fantastici viaggi per 2 persone a Hollywood con tanto di visita guidata sul set di Beautiful offerti da I Grandi Viaggi. Votate e volate dai Forester. Moda significa anche bellezza e forma fisica, se volete essere belli alla moda dovete usare Beauty Center di Biosan, il completo e potente elettrostimolatore professionale per l'uomo e per la donna. Chiamate subito il numero 840 000 840 e potrete avere Beauty Center a 1.349.000 lire, IVA inclusa, pagabili anche a rate, più un piccolo contributo di 55.000 lire per le spese di consegna. Ma ora cediamo la linea al nostro Giorgio Mastrota. Bene, oggi sono qua con Gisella Marengo e molti l'avranno già riconosciuta perché lei è una delle testimonie di Beauty Center e insomma non solo si vede nei filmati, si vede anche insomma di persona. No, io non è che lo uso solo nei filmati, io lo uso anche a casa, sempre guardando la televisione, parlando al telefono. Quando voglio? Quando voglio, in ogni momento, guarda, devo dirti che i risultati veramente ci sono. Dire di sì. Beh, non è solo un fatto mio, l'ho fatto provare alle mie amiche, l'ho consigliato a loro e devo dire che anche verso le mie amiche sono tutte molto soddisfatte. Vedete, lo uso anch'io poi, insomma, è Beauty Center. Allora, seguite l'esempio di Gisella e usate anche voi Beauty Center così potrete indossare tranquillamente il bikini. Beauty Center è talmente facile da usare, risultati così entusiasmanti che non ve ne stancherete mai. Non è un caso che era comandato dall'Associazione Italiana Medici dello Sport. Infatti Beauty Center è fornitore ufficiale della Federazione Italiana Fitness e della Lega Pallavolo Serie A femminile. Avere in casa Beauty Center significa avere un personal trainer e un completo centro di estetica a propria disposizione tutto il giorno. Ma ora diamo la parola alla nostra Gisella. Beauty Center è facile da utilizzare e i risultati sono talmente straordinari che non smetterete mai di usarlo. 130 programmi specifici per lo sport differenziati a secondo delle diverse discipline sportive. Per gli uomini e le donne che vogliono potenziare, modellare e tonificare il proprio corpo. Pensate, 20 minuti di trattamento corrispondono addirittura a due ore di esercizio fisico in palestra. 82 programmi estetici, tra questi quelli per il dimagrimento intensivo oppure quelli con il duplice effetto dimagrante e rassodante. Per gli uomini e le donne che vogliono scolpire il proprio corpo. I risultati si vedono sin dalle prime sedute. Per noi donne poi Beauty Center è un alleato prezioso per combattere gli inestetismi della cellulite. Pelle a buccia d'arancia, cuscinetti di grasso, gonfiori, ruga e rilassamento muscolare e cutaneo. Un problema? Un programma specifico. Beauty Center costa 1.349.000 lire, IVA inclusa, per un piccolo contributo di 55.000 lire per le spese di consegna. E potrete pagarlo anche a rate a partire da 60.000 lire al mese. Telefonate al numero 840-000-840 e riceverete tutte le informazioni su Beauty Center. E se lo prenoterete oggi riceverete sempre compreso nel prezzo un soggiorno di una settimana per due persone in una località di vacanza italiana. Con Beauty Center scopri il piacere di piacerti. Ed ora vi lascio a Beautiful, vi aspetto come sempre domani. Ciao a tutti! Musica Musica Musica